C'è ancora il buon Drutut, sì L'ho visto caldo prima, l'ho visto Dai, let's go Blue Smile, oh Dio In realtà dovrei provarlo, anche Red dovrei provarlo Vediamo se mi da il leash Vediamo se Drutut mi da il leash, ma non credo però Niente leash per me, sad Grazie, mafia ufficiale del follow Posso rubare A me è che non roma Nami, ma non credo Dovrei poter rubare i raptor a Kindred Dai dovrebbe essere qua Cos'era il suono, what the fuck E la vai Va bene, niente da fare Potremmo provare Playbot Dai Blitz, mi infido di te Andiamo ad aiutare il buon TF Ah, so close actually Fuck Ma non poteva flashare prima? Dai, non ci credo Disastro Nooo, ma perché non è flashato prima bro? Era il tizio era morto Ehm, ho un problemino ragazzi Ehm, ho un problemino ragazzi Ehm, mi grabba qualcosa Ti devo dire Vabbè, è andato come è andato Dai, cerchiamo di non tiltare Appresta questa azione Alla fine, appena iniziato il game Quindi Tanto siamo sempre behind Alla fine Sennò non sarebbe nemmeno divertente Giusto? Mi sembra normale Chiedo a voi Va bene Ah, mi ha preso Fuck Close Stavo a prendere out Peccato, peccato Dopo ho dovuto flashare Mi sa che si fanno Oddio Ma lo so Se per me qualche campetto Leggemo Verrà a mancare Purtroppo Sì, stai robando i miei campetti Dai, andiamo per buono Sì, stai robando i miei campetti Ma abbiamo il danno Per ammazzarlo Questo virus No, però abbiamo preso Il flash E il barrier Quindi ora è molto vulnerabile Brava, Fidel Sono a morire Oh, TF è andato bot Sto qui sta entrando Mmm, Kindred è ovviamente Still around Va bene Va bene dai Un po' tonto il virus Se ci mancano il relatiente Poi giggold Alla Trinity Forse Devo quasi aspettarla Ah, sono morto Anche se mi sono conservato La ultima Verrà, sai L'oscura della top Vabbè Ottiri Forse È matta questa Che fa Non ho capito bene Kindred Vabbè I'll take it Al di là L'exante incident Per il resto Dai Dovremmo andare tutto a posto Almeno il rank Dovremmo andare bene Grazie Sganovey Grazie del 38 Dai se andiamo out Benissimo Vabbè Comunque Voglio aspettare lo stesso 200 gold In qualche modo Riraccimoliamo Mi servono 70 gold Mi servono No 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 Oh questo tentino è fatto Aspita Dai Dovrei fermare Vado a ammazzare Valus Non so se lo becco per la wave Questa la potevo lasciare a TF Ma il mio TF Non mi pare Ah sono morto Che tonto sono Non devo morire Da un shutdown Andava bene Flesciare out Però poi Non devo pensare Devo manuare TF Basta Possiamo ittare Tower Bot We'll take it però Fin che vediamo Lucian Dovrebbe essere fine Oh eh oh eh Oh eh Oh eh Non posso Entrare Vabbè due sono morti Uno dal Baron Uno da noi Uno shutdown L'abbiamo preso Poteva andare peggio I guess Forse ci conviene Fare le scarpette qua Vabbè due sono morti Ahem Non male, non male Io e Drutut contro tutti Witsand, erano insomma e non so, in realtà Varus e P, Witsand era carino Ho un po' rischiato, devo dire la verità No, 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 no No, bravo, cosa grabbi, cosa grabbi Tu sei psicopatico sei, tu non stai bene con la testa Vabbè, vabbè, è anche la botta a sto giro, va 0-25 Mamma ragazzi, mamma, 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 mamma 2v5 vinciamo, 5v5 no, esatto Sono talmente fatti che ci draggano down così Vabbè Almeno è stato bannato il tizio di primo, spero quella fosse una segnalazione, guarda Oh Altro giro What is this? So What is this?